Melilli, insediamento del primo consiglio comunale della nuova amministrazione Carta. Nell'aula consigliare del Palazzo Municipale di Melilli, ieri pomeriggio ha avuto luogo il primo consiglio comunale della nuova amministrazione Carta. Con questa sindacatura Giuseppe Carta è confermato primo cittadino di Melilli per altri cinque anni. I neoconsiglieri eletti hanno prestato il giramento del rito per poi procedere, come da ordine del giorno, alle votazioni per scegliere il presidente del nuovo consiglio comunale, il suo vice. Alessia Mangiafico, oltre ad attestarsi con il maggior numero di preferenze, 1921 voti validi in occasione delle amministrative dello scorso giugno, è stata eletta a gran voce dai suoi colleghi consiglieri affinché ricoprisse la prima carica istituzionale del consiglio comunale, mentre Paola Marina è stata chiamata a rivestire la carica di vicepresidente del Consesso Civico di Melilli. La presidente Mangiafico ha ringraziato l'assiste per la fiducia alle accordate, assicurando di garantire l'imparzialità e la dedizione che il nuovo ruolo impone. All'ordine del giorno la programmazione del sindaco Giuseppe Carta, che con 5.862 preferenze è stato il più votato in questa tornata elettorale. Faccio un monito ai consiglieri tutti dicendo loro che oggi abbiamo una grossissima opportunità di collaborare effettivamente affinché i programmi di ambo le parti possano trovare realizzazione e compimento. Le parole del sindaco Carta, il quale continua affermando che la campagna elettorale è finita ed è il nostro dover lavorare tutti per il bene comune, che è quello di operare per la nostra comunità, non lasciando indietro nessuno e continuando il percorso intrapreso di valorizzazione della terrazza degli Iblei. Le porte sono e rimarranno aperte per tutti coloro che possono dare un valore aggiunto al benessere collettivo. I rappresentanti del Consiglio Comunale di Melilli eletti saranno per la maggioranza Alessia Mangiafico, Paola Maria Marino, Concetta Bafumi, Mirko Caruso, Giacomo Cruscitti, Michelangelo Lopizzo, Massimo Magnano, Teresa Riggio, Esther Sbona e Pierfrancesco Scollo. La lista Progetto Comune sarà rappresentata dai consiglieri di minoranza Daniella Ternullo, Salvo Cannata, Concetta Quadarella, Vincenzo Pegora, Sente Rosario Cutrone, causa positività al Covid-19, il quale ha prestato il giuramento via web ed è stato eletto capogruppo del Movimento Andiamo Avanti.